Questo è il liceo spaventa, siamo a Città Sant'Angelo. Si tratta, ci dicono, del primo liceo magistrale nato in Italia. Ora è chiuso per consentire lavori di ristrutturazione messa in sicurezza anche dopo il terremoto del 2016. Sì, ci sono i fondi, c'è il progetto, ma manca qualcosa, l'azienda, che ha rescisso il contratto con la provincia di Pescara. Più che sei personaggi in cerca d'autore, 600 studenti sparsi qua e là in cerca della sede madre ristrutturata, ma si tratta di una situazione pirandelliana, si afferma con ironia. Visto che lo scrittore premio Nobel un anno fece proprio in questo istituto il presidente della commissione, ma cosa è accaduto in pratica il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli? Deve aver avuto sicuramente un'influenza su questa storia pirandello, perché quello che succede qui è qualcosa di assurdo, una disattenzione da sottolineare da parte dell'amministrazione provinciale. Quest'anno la scuola è chiusa, dal 2016 non funzionava più, dal 2017 dopo il terremoto tutta l'ala Ovest che occupava laboratori e aule. Funzionava la parte S dove noi siamo venuti anche l'anno scorso a fare dei sopralluoghi. Quest'anno la scuola si trasferisce integralmente, si annunciano questi lavori e il 6 di settembre invece arriva la lettera del raggruppamento temporaneo di imprese che dice invece che recede da questi lavori. Si legge benissimo nella lettera la giustificazione, si recede perché la provincia dalla firma del contratto avvenuto il 28 settembre del 2021 aveva 45 giorni di tempo per affidare i lavori. È trascorso più di un anno e i lavori non sono stati affidati. E adesso cosa si può fare? Vista che questa è l'unica ditta che ha partecipato all'appalto e che ha già curato la progettazione ma non l'esecuzione dei lavori, tanto che chiede il rimborso dei fondi per la progettazione e per la stipula del contratto, la provincia dovrebbe trattare con questa ditta per fare in modo che possa tornare sui propri passi e portare avanti i lavori. Altrimenti, chiarisce Blasioli, i lavori potrebbero cominciare nel 2023 con il rischio però che nemmeno nel 2024 gli studenti torneranno allo spaventa che comprende ben 5 licei. Il capogruppo del PD in comune a Città Sant'Angelo, Antonio Melchiorri. I fondi c'era allora il nostro consigliere Galli, Franco, in provincia e sono stati acquisiti già da molto tempo, da diversi anni, nella passata legislatura e quindi pensavamo veramente adesso all'inizio dei lavori. A interessarsi della questione è anche Italia Nostra, Marco Spinelli. Quindi io chiedo che anche la regione e soprattutto la provincia diano veramente una stersata a questa situazione che non è più compatibile perché i sacrifici fra l'altro che stanno affrontando i ragazzi e le famiglie sono indicibili e sono assurde. Pierandello, come detto, presiedete la commissione nella sessione d'esame 1905-1906, la sua presenza a Città Sant'Angelo fu di ispirazione per la novella Notte, compresa nel volume di Novelle per un anno, in questo caso scolastico.